E' uscita una versione per moddare veicoli tramite l'RC bandito, un classico RC to car, quindi passare le modifiche che avete al vostro RC bandito ai vostri veicoli per moddarli, molto semplicemente. E' simile al car to car, molto veloce anch'esso, quindi se avete l'RC bandito moddato e volete moddare i vostri veicoli anche con quello, io comunque ve lo porto, perché è giusto che io ve lo porti. Vi lascio in descrizione un video per moddare l'RC bandito, un video abbastanza vecchio di qualche mese fa che ho portato, l'ho portato mi sembra a settembre dell'anno scorso, che però dovrebbe ancora funzionare, quindi provatelo nel dubbio se non avete l'RC moddato, se invece avete l'RC moddato fatelo pure, se non ce l'avete moddato e non riuscite a moddarlo con quel glitch, fate il classico car to car, semplicissimo. Allora, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like a questo video per supportarmi, per voi tutto gratis, per me è un supporto davvero davvero grande, grazie mille a chiunque lo farà, vi ricordo anche di lasciare un commentino se vi va e di rimanere aggiornati tramite la descrizione con tutti i miei social, almeno su un social seguitemi per favore, per restare sempre aggiornati, dato che YouTube tante volte non manda le feed, seguitemi almeno su un social così siete sempre aggiornati. e sulla descrizione trovate anche i link per supportarmi in maniera monetaria, eccetera, 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 le solite cose. Allora, iniziamo subito dai requisiti, sono i classici requisiti, quindi officina dell'arena, veicolo su cui teletrasportare le modifiche all'interno dell'arena, in questo caso nel video userò una i3 RSX e l'RC bandito meglio se moddato, se volete moddare i veicoli. Piccola precisazione, questo glitch può essere utilizzato esattamente come il car to car anche per fare soldi. In che modo? Semplicemente non moddate il vostro RC bandito, modificatelo semplicemente al massimo e quando andate a fare il glitch poi vendete il veicolo che avete moddato, quindi meglio un RH8 almeno è gratis, comprate l'RH8, fate il glitch, quindi passate le modifiche dall'RC all'RH8 e poi vendete l'RH8 sempre evitando il blocco vendite con una vendita ogni ora, per un massimo di 3 al giorno. Ultima cosa vi ricordo, vi ricordo di leggere il commento fissato in alto prima di fare questo glitch, in cui scriverò se il glitch è funzionante oppure patchato, una quando leggetelo, è un glitch quindi molto semplice al car to car come già detto, quindi verrà patchato insieme al car to car, penso. E se volete fare altri glitch in generale andate nel mio gruppo Telegram e scrivete slash glitch e il bot manderà la playlist di tutti i glitch funzionanti sempre aggiornata. Adesso senza perdere tanto altro tempo iniziamo subito con questo glitch, per prima cosa entriamo nella nostra ufficina dell'arena come da solito. Allora andiamo nel veicolo che vogliamo moddare, in questo caso moddo come già detto una Italy RSX e premiamo freccita a destra per entrare all'interno dell'officina. Quindi ci fa l'animazione solita, una volta che siamo all'officina, facciamo cerchio, esci dal veicolo, così il veicolo resterà nell'officina. Adesso andiamo nell'RC bandito e facciamo una modifica. Vi consiglio di modificare tutto tranne il colore e i finestrini e le ruote, perché i colore, i finestrini e le ruote di solito sono moddati se avete moddato l'RC bandito. Quindi non modificate una di queste tre cose, modificate che ne so, la livrea o la verniciatura o gli esplosivi, la mina di prossimità, quello che volete. Io in questo caso ho depotenziato il salto verticale e ve l'ho rimesso a posto. Poi dopo aver fatto ciò andate su colore principale, crew e posizionatevi su colore crew come al solito, state su colore crew senza selezionarlo, senza cliccarlo. Poi apriamo come da solito il menu rapido tenendo premuto il tasto PS e dopo aver aperto il menu rapido lo chiudiamo. Vedete, ci avrà tolto il menu dell'RC. Adesso saliamo sul nostro veicolo da moddare e premiamo semplicemente, come da solito, il tasto R2. E tac, eccolo qua il veicolo. Quando si fa il caricamento, ecco qua il veicolo moddato che avrà preso tutte le modifiche dell'RC. Quindi questo è quanto, glitch è veramente semplice, anche se è molto veloce, ho deciso comunque di portarvelo perché mi andava comunque di portarvelo anche per chi piace moddare veicoli tramite l'RC bandito. Io nel dubbio l'ho portato che non fa mai male. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi e di lasciare un bel like a questo video, per tutto gratis, per me è un supporto davvero davvero grande. Grazie mille a chiunque ve lo farà, lasciate un commentino se vi va e ricordatevi di leggere la descrizione in cui ci sono tutte le info di in cui ti del canale, che vi posso interessare, tra cui i link ai social dove seguirmi per essere aggiornati, seguitemi, vi ricordo almeno su un social, così resterete sempre aggiornati sui miei nuovi video, le mie nuove live, dato che YouTube ogni tanto non manda le feed o comunque tante volte non mi mette nel feed di iscrizione o non mi mette in home per dei problemi a caso, dei bug, quindi seguitemi sui social che lì arriva sempre tutto. Grazie mille per la visione, dal vostro programma è tutto. Bella.